Bentornati su Mordai News, la serie in cui riassumiamo le notizie della settimana precedente. Questa settimana è stata abbastanza tranquilla, però ci sono state alcune cose che secondo me vale la pena di annoverare tra le novità più novitose. Vediamo subito con cosa iniziamo. La notizia forse più corposa che ho già commentato un pochettino nel video di venerdì è che finalmente abbiamo una prima immagine del PCB teorico delle 4090. Un PCB che in realtà non si distacca più di tanto da quella dei predecessori, ma ci dà giusto qualche informazione in più utile da sapere. Quello che state vedendo è il PCB teorico di AD102, ovvero le teoriche top di gamma della nuova generazione Ada Lovelace, da qui AD. Queste sostituiranno le GA102 che attualmente sono le top di gamma di Ampere, ovvero le RTX 3000. Come potete vedere da questo primo sguardo al PCB abbiamo ben 12 chip di memoria, molto probabilmente ancora utilizzeranno la GDDR6X, con una possibilità di installare 24 fasi di alimentazione. Anche se c'è da dire che non sempre vengono utilizzati tutti gli slot disponibili. Per esempio la 3090T che dovrebbe avere più o meno delle caratteristiche simili alla 4090 per quanto riguarda questo aspetto, utilizza soltanto, soltanto tra molte virgolette perché non sono poche, 18 fasi di alimentazione. La parte di alimentazione rimane una TX 3.0 a 16 pin con possibilità di erogare fino a 600 watt di potenza. Ciò non vuol dire che avremo 600 watt di potenza, ma semplicemente che c'è la possibilità di arrivare fino a. Solitamente si va un pochettino in esubero per assicurarsi dei margini. La cosa molto interessante è che nella parte di input-output fa un grandissimo ritorno la USB-C, esattamente come sulla serie 2000. Non so se vi ricordate, per esempio, le 2080T come la mia hanno una USB-C che veniva utilizzata più che altro per garantire accessibilità al consorzio che gestiva la parte VR, però poi è stata tolta sull'RTX 3000. Sarei molto molto felice di vederla ritornare perché una porta USB-C in più sul PC non fa mai male. Soprattutto se parliamo di un contesto ITX come quello che ho utilizzato io negli ultimi anni, in cui avevi soltanto una porta USB-C dalla parte posteriore. Infine, come vi ho già detto nel video di venerdì, Igor's Lab ci riporta che la mass production di queste schede avverrà tra agosto e settembre 2022. Igor's solitamente è molto molto conservativo con i propri dati e tende a non creare leak inutili. Ma non è soltanto Nvidia a farci vedere delle nuove schede video. Infatti Intel ha fatto una cosa molto particolare e all'Intel Extreme Masters in Texas ha voluto mostrare le sue nuove schede video, o perlomeno i dissipatori alla parte esterna. Quelle che state vedendo all'interno di un box acrilico, così ci riportano su una base rotante, sono semplicemente due schede video, due dissipatori e non abbiamo possibilità di identificarle. Però come potete vedere richiamano effettivamente quelle che erano state fino ad oggi leak su queste schede video. Abbiamo anche la fatidica versione Limited Edition, molto molto carina, cosa che fa pensare che faranno due dissipatori, magari uno da collezione e uno un pochettino più banale, un pochettino più economico magari per sostentare il mercato in quella fascia. Molto molto carina, devo dire la versione illimitata, mi piace molto il design, elegante, tranquilla, pulita, ma soprattutto una cosa interessante è che utilizza una 8 pin più 6 pin, cosa che vuol dire che Intel non andrà a utilizzare gli standard che stanno venendo introdotti da Nvidia con le ultime schede, ovvero con la 12 pin, ma ancora sosterrà quelli vecchi. Non abbiamo ancora nessun dato per quanto riguarda il lancio ufficiale di queste schede, ma molto interessante da vedere. Sempre lato Intel abbiamo delle novità corpose anche per quanto riguarda la tredicesima generazione di processori Intel Core, ovvero Raptor Lake. Perché devono sempre suonare le campane mentre registro? Perché? 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 Cioè, ma è tipo un richiamo, cose, cercherei, scusate. Dicevamo invece di Raptor Lake che non fa 4 rintocchi alle 16, ma ha 16 core sul suo i9, infatti sarà anch'esso un 8 più 16 esattamente come il 12900K, seguito da un i7 che avrà una struttura 8 più 8, e infine l'i5K sarà un 6 più 8. Stando i leak dovremmo avere anche l'i5 base con un 6 più 4, cosa che dovrebbe andare a contendere quello che è l'attuale struttura di line-up di Intel per quanto riguarda Alderley, ovvero con il 612 per quanto riguarda il processore i5 non-K, e il 6 più 4, totalizzando quindi 20 thread, per quanto riguarda il 12600K. Infine avremo come al solito un i3 che non avrà gli core e quindi si starà tranquillo con i suoi 4 core. Quello che ci si aspetta è un incremento leggero di prestazioni che dovrebbe semplicemente andare a dare un po' di filo da torcere a Zen 4, quindi sarà principalmente un refresh competitivo per il mercato, ma che non avrà, diciamo, l'esplosività di Alderley rispetto invece all'undicesima generazione. Quindi non aspettatevi delle cose assurde, almeno da quello che ci riporta il buon Murslow is dead. Se stiamo parlando di un annuncio che vedrà la luce verso la fine dell'anno, molto probabilmente si ripeterà il pattern di release che abbiamo visto con Alderley, ovvero che gli 5 lisci verranno rilasciati successivamente nei dintorni del CS 2023, assieme alle B760 e le H770. Non so se avete visto le H670, io non ho più palla idea di come siano fatte perché ne ho vista una, però comunque, oltre a questo, ciò è Raptor Lake, diciamo, riassunto a grandi linee. Purtroppo le news più corpose, lato hardware, si fermano qui, però possiamo passare un pochettino agli spizzichi e bocconi, la parte in cui ci sono delle news che si spiegano da sole. Vediamo un pochettino che cosa ci ha offerto questa settimana. God of War su Steam è ufficialmente il terzo titolo ad avere implementato l'FSR 2.0 e tutti i suoi benefici come gioco, infatti è da subito disponibile questa tecnologia anche sul titolo di casa Sony. E devo dire che mi piace la line-up di giochi che stanno scegliendo, cioè siamo partiti con Deathloop, che comunque è un gioco che un po' piace, un po' no, poi Farming Simulator 2022, che non ho capito perché, e adesso God of War, che onestamente ha senso. Però Farming Simulator 2022 come cavia da laboratorio mi è piaciuta tantissimo. Bravi, le mie mucche in HD sono molto più belle. NZXT ha annunciato le sue Z690, infatti abbiamo i nuovi modelli N7 e N5. Le schede madri si vanno a integrare con i più recenti annunci degli H7, ovviamente potete notare che i nomi riprendono, H7, N7, insomma. Cioè, avete capito, no? Stanno cercando di fare un gioco H1, H1, V2, insomma, stanno giocando sui numeri semplici. La N7 sarà una Z690 con caratteristiche un po' simili a tutto quello che viene offerto già ad oggi, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6.e, 12 fasi per quanto riguarda la parte di alimentazione e una corazzatura totale che copre l'interezza del PCB della scheda madre, toltele alcune parti dove ovviamente non si può coprire come chiaramente RAM, parti di alimentazione e attacchi vari. Per quanto riguarda invece la versione N5 abbiamo semplicemente una versione più scarna dal punto di vista estetico e si riducono leggermente i VRM con otto fasi di alimentazione, cosa che comunque non dovrebbe dare particolari problemi. Personalmente mi piace di più l'N7. Dai recenti annunci di Sony arriva una bellissima novità. Infatti da questo agosto avremo noi, PC Gamer, la possibilità di giocare a Spider-Man. Bello, bello, bellissimo. Oltretutto non solo a Spider-Man il primo, ma anche a Spider-Man Miles Morales. Cosa onestamente molto bella perché sono due titoli veramente molto significativi ed è un piacere poterci giocare anche su PC. Sto sperando che il porting venga fatto bene perché Sony non è proprio bravissima nel fare i porting delle cose ma godo formi da buone speranze. Oltre a questo dovremmo avere anche l'annuncio ufficiale del PlayStation VR 2 con l'integrazione di alcuni titoli più recenti come per esempio Resident Evil 8 Village insomma che verrà messo anche su in VR. Io onestamente di combattere la Dumitrescu in VR non ho la minima idea perché ci tengo alla mia salute mentale. Però per il resto sembra veramente molto interessante. Stiamo a vedere quando uscirà. La quattordicesima generazione di Intel avrà un nuovo socket di dimensioni titaniche a quanto pare perché sarà un LGA 2551 ovvero 2551 pin. È onestamente ok che non li usate tutti però sono tanti. Cioè tipo il 50% in più rispetto all'LGA 1700 il che è tanto, è veramente tanto. Quindi possiamo aspettarci forse dei processori veramente consistenti per quanto riguarda la prossima generazione di Intel. Ovviamente neanche la prossima. La prossima prossima. Stiamo già parlando di qualcosa che vedremo forse nel 2023 se va bene. E onestamente mi spaventa un pochino il fatto che stiano pensando già alla quattordicesima e soprattutto che la vogliono mettere nella prima parte del 2023 perché secondo me con la tredicesima finisce esattamente come 11 e 12. Dove la 11 insomma non ha avuto grande successo e è stata sostituita dalla 12 rendendo la 11 un po' un acquisto strano. Chiudiamo con una notizia molto interessante da parte di Amazon. Infatti il colosso di vendita online sta sperimentando la possibilità di fare acquisti su richiesta con conferma di essere un essere umano, di non essere uno scalper, insomma cose del genere e quindi dando la possibilità a persone reali e concretamente gamer di comprare cose come per esempio le console che stanno subendo ovviamente grossi danni da quanto riguarda le parti di rivendita, scalping e cose così. Amazon sta sperimentando una sezione su Amazon.com come potete vedere questa qui sarebbe la versione diciamo aperta al pubblico e negli Stati Uniti effettivamente puoi richiedere l'invito a comprare il prodotto se questo qui è un high demand item ovvero un oggetto con un'altissima richiesta. Onestamente qualcosa di molto interessante almeno per creare un minimo di disagio a queste persone che possono comprare con le stesse modalità delle persone normali e personalmente insomma non è proprio granché quando hai un oggetto che non è molto disponibile per via della crisi dei chip poi arrivi lì e devi lottare con 297 bot che semplicemente poi lo comprano e lo mettono su ebay 8 secondi dopo. Per il resto ragazzi queste erano le news della settimana noi ci vediamo al prossimo video voi state su Morden Tech Sanusa! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.